AAAAAAAA AAAAAAAA AIUTO AIUTO Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale Pierdo... All primary systems online AQUAD e benvenuti nella puntata numero 13 con il nostro PINO lo schianti, Pino schiantino, no Pino lo schianti Pino schi... oh sbaglio se, sbaglio sempre Pino schiantino, no Pino lo schianti basta Pier. Nella scorsa puntata abbiamo distrutto il Seamut si è scaricato il Seaglade siamo senza cibo siamo ne... nella... nella melma mi avete detto anche che per riparare il Seamut bisognava semplicemente usare lo strumento di riparazione ma io non ci ho pensato perché sono un cretino ci fate caso non ci dovete fare caso costruttore di habitat eccolo... venghi allora vediamo possiamo fare... riflettore eeeh... vetro e titanio il riflettore aspettate ho il vetro no? quarzo abbiamo il quarzo quindi possiamo farci il vetro quindi possiamo farci il vetro? sii... ci facciamo il riflettore? ma assolutamente... assolutamente si vediamo un po' oh... oh che riflettore... mamma mia... qui? lo metto? vai... metto il riflettore... non si vede nulla... riflettore... non funziona... ma l'ho messo al contrario... ma nooo... così... così... qui... 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 mettilo... vai... non ho i materiali? si... ok... ooooh... un po' di luce... e viva il riflettore... e viva il riflettore... il riflettore... il riflettore... io mi farei un altro armadietto eh... no... caricatore di batterie... ingredienti sconosciuti... per noi abbiamo bisogno del... di un altro armadietto... perché sennò qui non abbiamo spazio... quindi andrei a prendere l'altro quarzo qui all'interno... ok... e andiamoci a fare un altro po' di vetro... per farci... ancora... un armadietto... e lo mettiamo qui... ma si... lo mettiamo qui l'armadietto... eccolo... mettilo qui... bello dritto... 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 si sono precisino... non ci fate caso... bam... un po' storto... vabbè... un po' storto... niente di che... metto tutto all'interno eh... ci facciamo una batteria... visto che... non abbiamo... energia al nostro... Seaglade... andiamo a sostituire... R per sostituire... e bam... ok... fatto questo... ci prendiamo le batterie scariche... e le mettiamo qui... perché poi con il caricatore... ci andremo a sistemare il tutto... mi avete detto... che... per... trovare... il diamante... devo andare... in quell'isola... che abbiamo già... che abbiamo già visto... sali... ok... che abbiamo già visto... nelle scorse puntate... però io vorrei farmi prima il... peanut... e abbiamo bisogno del lingotto... del vetro... della cera di energia... abbiamo bisogno di tutto... piombo... lubrificante... allora... non dovrebbe essere un problema... quindi... noi ci prendiamo le batterie scariche... queste... 1 e 2... e ci facciamo la cella di energia... no... la cella di energia si faceva come? gomma siliconica... ce l'abbiamo... e qui... gomma siliconica... 1 e 2... vai... cella di energia... è fatta... e poi il quarzo... se non sbaglio... vero? il quarzo? non ho più quarzo? no... per favore... non mi fai andare alla ricerca del quarzo... no... cos'è quarzo questo? si... prendilo... ok... andiamoci... si... ma sta succedendo il casino... dai... siamo arrivati... siamo... vai... ok... ce l'abbiamo fatta... ce l'abbiamo fatta... adesso ci facciamo il vetro... ok... ci andiamo a fare... un po' d'acqua... ancora un po' d'acqua... sempre acqua... sempre acqua... ok... un po' di cibo... basta così... qui non abbiamo... nulla... no... di nuovo... non abbiamo nulla... non abbiamo... gli ingredienti... per il... radiofaro... quindi... adesso... uno... due... tre... e quattro... cioè... mamma mia... mangia maiale questo... ok... possiamo farci... il peanut... di nuovo... dov'è? eh... ma adesso non si vede nulla... dove si... è qui? vai... si vede niente... è tutto... scuro proprio... oh... finalmente... abbiamo di nuovo il nostro peanut... adesso possiamo spostarci... dai... muoviamoci... fai cadere questo simut... ok... entro... ok... adesso... avevamo detto... per andare di nuovo in quella zona... la nostra navicella madre... doveva... trovarsi sempre sulla nostra destra... quindi noi andiamo... dritto per dritto... e vediamo cosa ne viene fuori... mi serviva la tuta... mi serviva la tuta antiradiazioni... non mi dire... niente... non vedo nulla... cioè io sono fuori ma non vedo nulla... ma che cacchio... a questo punto... a questo punto è meglio... prendere la tuta... a questo punto... prendiamo la tuta e... abbiamo risolto... è l'unica cosa... quindi ritorniamo indietro... madonna... oh... che cazzo... ma che sta succedendo... cosa ho colpito... perché si è fatto buio... ma... ok... da questa parte... giusto... andiamo sempre dritto eh... vado sempre dritto... speriamo bene... speriamo bene... vai sempre dritto... e ci troviamo di nuovo quell'isoletta... dove... mi avete detto che all'interno... si trova... si trovano dei diamanti... chissà... noi con i diamanti possiamo poi farci... la taglierina... e con la taglierina... possiamo aprire delle zone... che ci interessano... quindi io... andrei sempre dritto... ma attenzione... perché lì c'erano dei mostri incredibili... li stiamo molto attenti... lì c'è una capsula... che capsula è? la 6... l'abbiamo già vista... si... andiamo dritto... ok... sali... 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 sempre dritti... vediamo un po'... mamma mia che casino... ok... sempre dritto da qui... eh... mi dicevano... più o meno 1500 metri... se non sbaglio... siamo a 1200... ma io non vedo... ma è sparita l'isola? boh... è sparita l'isola... dov'è l'isola? isola... isola... ma io non vedo niente... chi è? chi è? si vede un cacchio... quasi quasi andrei lì però... mi avete detto che ci sono mostri incredibili... non trovo nulla... non trovo un cacchio... sparita l'isola... è sparita l'isola... ma... com'è possibile? è sparita l'isola... cos'è sto rumore? cos'è sto rumore? cos'è sto rumore? donna non c'è niente... dove stiamo andando? dove stiamo andando? vedo nulla... da qui... c'è nulla... da qui... non c'è niente... da qui non c'è nulla... acqua blu... mamma mia... però c'è troppo... ok... zona morta... che è? chè sto rumore? me ne vado cos'è? cos'è?! oddio cos'è quella cosa! oddio cos'è quella cosa! oddio cos'è quella cosa! oddio cos'è quella cosa! diamocene via! mi so cacato sotto mi sto cacando sotto dove ca... che cacchio era quella cosa? fatemene andare aiuto 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 oh mio dio era una cosa grandissima aiuto cos'era cos'era ragazzi l'isola non si può trovare non mi interessa dell'isola ma che cos'era quella cosa no ragazzi io devo affrontare queste cose ma cos'è meno male che il pinut è veloce mamma mia ma quell'isola è sparita mi sono cagato sotto non mi segue più no no non mi segue più ma cos'era ma cos'era non ho capito cos'era andiamocene no 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 mi interessa datevene a cagare voi e l'isola oh cos'è qui cos'è qui c'è pericolo sì sento qualcuno che si inca ma dai ma che sì ma io devo andare per forza qui all'interno cosa vuole questo coso mamma mia qui c'è qualcosa mi attacca ma sta lì vai cagare ma ce ne sono due ce ne sono tanti posso entrare con il con lui no oh mio dio oh mio dio no io devo entrare oh 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 chi è chi è esce è crist ho capito crist acqua si vede un cacchio chi è chi è oddio oddio ma sento dei versi panca va bene acqua da quad mi sono cagato sotto non è giusto taglierina fucile fucile va bene va bene c'è più devo entrare velocemente qui all'interno chi è che mi attacca chi cacchio mi attacca non si vede nulla mi sono bloccato bene ma va a cagare mamma mia l'agitazione è troppa no io lì non ci vado più basta già 87 il mio pinut comunque qualcosa l'abbiamo presa l'importante era prendere qualcosa una puntata a cardiopalma stavo cacando sotto chi è mo ma basta ma esisto solo io qui cacchio è sempre qua sta questo vai via se ci prende ci ha rotto il simut eh siamo quasi arrivati siamo quasi arrivati grazie a dio ce la faccio più è stata una puntata incredibile una puntata assurda va bene esci esci ok mamma mia siamo salvi si e captain ma avete fatto cacasotto oggi altro che captain ma va a cagare non è giusto bevete mangiate riproducetevi ma lasciatemi perdere basta così ciao a sua va bene signori in questa puntata non abbiamo fatto molto ma l'isola non l'ho trovata l'unica cosa di positivo è che ci siamo fatti il simut adesso vediamo se i vostri commenti erano giusti perché mi avete detto che per riparare il simut serve il riparatore vediamo proviamoci sì grazie vi adoro vi amo signori un bacione un abbraccione questa puntata la chiudo prima perché so cacato sotto ci sarà davvero tanto materiale da farvi vedere io che mi caco sotto quindi un bacione un abbraccione ci vediamo nella prossima puntata acquatta a tutti acquatta non ci vedrai far feloni amoroso notte giorno di torno gerato delle belle torbando a riposo noci setto adorci no d'amor delle belle torbando a riposo noci setto Grazie.